Alle ore 16 in punto noi andiamo in diretta con il nostro chef Andrea Ruschel. Ciao Andrea! Ciao Rosita, ciao! Siamo pronti per una nuova puntata di Ascoltaci con Gusto e riveliamo subito ai nostri ascoltatori il piatto di questo lunedì. Esattamente, oggi andiamo a preparare insieme una pasta fantastica. Andiamo a preparare la pasta calamarata che è prodotta dall'azienda Garofalo, una delle migliori produttrici in Italia, nel mondo di pasta. Poi l'andremo a riempire con una crema di ricotta, una crema di spinaci che metteremo sul fondo, listarelle di prosciutto di parma, dop croccandial di sopra e per finire un po' di profumo di agrumi, un'arancia siciliana. Allora, prima di svelare ancora più a fondo i nostri ingredienti del giorno e poi anche tutti i passaggi per riprodurre il piatto in casa, Andrea, io direi di andare con la nostra sigla. Andiamo via! Sono lo chef Andrea Ruschel, finalista del programma televisivo Cuochi d'Italia 2030. Insieme a London One Radio vi farò scoprire la cucina tradizionale e noi ci collegheremo da qui, da Londra, la città delle opportunità. Pasta calamarata, questo è il piatto di questo pomeriggio e direttamente dalla cucina di Londra del nostro chef Andrea Ruschel. Allora Andrea, noi sul banco vediamo come ogni lunedì questi ingredienti bellissimi. Esattamente. Mostraceli e raccontaci di che cosa si tratta, come fare questo piatto. Guarda, adesso vi faccio vedere l'ingrediente principe di questo piatto. Stiamo parlando della pasta calamarata, che è un formato speciale, eccezionale, perché mantiene la cottura. E poi è prodotto dall'azienda Garofalo, un'azienda storica di Gragnano, che ha veramente tantissimi anni di storia alle spalle. Ha una cottura di 15 minuti e la possiamo andare a riempire con la ricotta, che vi farò vedere come prepararla. All'interno della ricotta aggiungeremo delle erbe aromatiche come il timo, che sa di Mediterraneo, aggiungeremo anche del rosmarino. E lo finiremo, questo piatto, con l'aggiunta di ristarelle di prosciutto crudo di parma dopo. Poi vi faccio vedere anche che andremo a preparare una crema da mettere sul fondo, fatto con degli spinacini freschi. Quindi andiamo a utilizzare degli spinacini freschi perché sono molto più buoni, più saporiti rispetto che gli spinaci congelati. Comunque, gli spinaci freschi li troviamo tutto l'anno, un pochettino come la rucola e l'insalata. E poi, per finire, questo piatto, un filo d'olio extravergine di oliva, sempre dell'azienda Garofalo. Olive 100% italiane, profumo 100% italiano. Ottimo! Noi siamo felici anche per Garofalo, che ormai fa parte della nostra avventura Ascoltaci con Gusto e sono diventati ormai ufficial sponsor del nostro programma. Cosa interessante è che i prodotti Garofalo li potete trovare ovunque, perché magari chi viene a Londra, sai cosa succede, Andrea? Dice, ma io vorrei un piatto italiano, ma dove li posso trovare questi ingredienti? Beh, ad esempio, pasta Garofalo li trovate in diversi supermercati, oppure in alcuni local daily, ad esempio. Sono famosissimi questi piccoli supermercati all'italiana e poi anche online, come ad esempio Amazon o Kado. Allora, Andrea, io direi di iniziare con la preparazione. Certamente. E mentre noi ti vediamo all'opera, noi andiamo anche con le news. Però intanto raccontaci un po'. Allora, vi faccio vedere, innanzitutto iniziamo mettendo la pasta a cuocere, perché bollirà per circa 15 minuti, quindi mettiamo del sale nell'acqua. Dopodiché portiamo a potenza massima il nostro fuoco, poi aggiungiamo la pasta. Nel frattempo che la pasta si cucina, abbiamo circa 15 minuti, procederemo con la preparazione degli altri ingredienti e ascolteremo le news che Rosita ci racconterà quest'oggi. Esatto. Allora, mentre noi lasciamo così il nostro Andrea cucinare, fare almeno il primo step, io direi di continuare con le nostre notizie. Notizie che però vanno oltre i fatti di cronaca che ormai purtroppo nelle ultime ore ne abbiamo già abbastanza ascoltato, purtroppo. E stiamo parlando proprio della guerra. Ma proprio per una scelta nostra editoriale abbiamo detto no, la radio è anche intrattenimento. Non so se vi ricordate, c'è un film famosissimo di Robin Williams dove lui interpretava proprio un conduttore radiofonico. C'era la guerra in Vietnam e anche in quel periodo veramente difficile lui cercava di allietare un po' tutti, anche i soldati all'epoca, con sano intrattenimento e anche musica. È quello che noi vogliamo fare con London One. In questo caso, poi accompagnati da un buon piatto di pasta, in questo caso piatto di pasta garofalo, è ancora meglio perché così possiamo anche scoprire cosa cucinare di diverso nelle nostre cucine italiane a Londra. Perché so che molti di voi, una volta arrivati all'estero, in qualsiasi altro paese che è fuori dall'Italia, naturalmente, perde un po' le abitudini di casa. E noi cerchiamo invece di farvi riprendere queste abitudini con dei piatti molto semplici che potete replicare direttamente a casa vostra. Comunque, mentre noi vediamo anche in radiovisione, chi vuole seguirci può farlo anche su YouTube, Facebook e Twitch. Il nostro Andrea Ruschel, il nostro chef all'opera. Io sono veramente felice di annunciarvi anche questa notizia che da questa mattina ha fatto il boom del web, ha fatto il giro del web. Stiamo parlando proprio di Tiziano Ferro, che è ormai l'uomo più felice del mondo. Abbiamo anche noi pubblicato questo quadretto di famiglia, lui insieme ai suoi due bambini e Victor, il suo compagno. Ed infatti è proprio così. Tiziano Ferro è diventato papà e ha raccontato la sua emozione sui social. Ha detto, due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima, qualche mese fa, una bimba. La seconda, poche settimane dopo. Questa volta un bimbo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Loro sono Margherita e Andres. La vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra. E poi continua dicendo, per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Quindi finalmente, nonostante questi periodi bruttissimi che stiamo vivendo di guerra, un po' d'amore c'è. E grazie a Tiziano Ferro che ci ha regalato questo momento che è condiviso proprio con noi di amore, di felicità, di famiglia. Noi siamo proprio vicino anche alle famiglie di tutta l'Ucraina che stanno purtroppo vivendo un momento piuttosto difficile. Andiamo avanti anche con le news perché qui è pieno di intrattenimento. È vero che ci stiamo concentrando anche qui a Londra, non si fa altro che parlare della guerra in Ucraina, però devo dirvi che Londra continua a veramente farci sognare perché ci sono tantissime iniziative e poi anche degli scorci di Londra vividi, creatività, che vi faranno veramente sognare grazie ai loro progetti. E vi anticipo poi che anche noi questa sera abbiamo cercato di smorzare un po' la tensione attraverso un video che vi porterà invece a Brighton. Quindi restate con noi per saperne di più. Allora intanto io vedo al nostro Andrea sminuzzare. Che cos'è? Sono spinaci, Andrea? No, no, sono delle erbe aromatiche. Da questa parte abbiamo il timo che dà quel profumo di Mediterraneo. Da questa parte invece abbiamo il rosmarino che darà quegli oli essenziali che saranno essenziali per andare a profumare la ricotta. Ti faccio vedere adesso come procediamo. Allora prendiamo una boule dove andiamo ad inserire la ricotta. Io sto utilizzando una ricotta vaccina ma ognuno di noi può utilizzare una ricotta diversa, quella che vi piace di più. Possiamo utilizzare una ricotta di pecora, una ricotta vaccina, una ricotta di capra. Quale preferite? Poi aggiungiamo il rosmarino, bello abbondante perché comunque dobbiamo veramente andare a dare quel sapore eccezionale che sa d'Italia, di Mediterraneo, a questa ricotta fantastica che comunque è made in Italy. Ci stiamo collegando da Londra ma tutto quello che utilizzo nella mia cucina è made in Italy, ve lo ricordo. Poi andiamo a utilizzare del pepe appena macinato che dà quella... Eccolo, allora noi mentre recuperiamo comunque il collegamento con Andrea vi anticipo che al nostro numero di Whatsapp potete inviare i vostri messaggi perché se volete magari anche delle informazioni in più sulla ricetta, dei tips e dei suggerimenti. Guardate adesso il nostro Andrea sta aggiungendo l'olio, eccolo, alla nostra ricotta. Esattamente. Questa è la salsa? Questa qui sarà la crema che andrà a farcire la pasta calamarata. Poi questo qui è l'olio dell'azienda Garofalo, fatto con olive 100% italiane, made in Italy, quindi vi dico che il profumo è veramente eccezionale. Andiamo a dare questo tocco in più alla nostra ricotta perché la ricotta non va pensata solamente come dolce ma si può anche pensare nel salato. Poi la andiamo a mantecare con un leccapendole in questo modo qui. Vi chiederete per chi non conosce le terminologie di cucina che cos'è un leccapendole. Il leccapendole è questo strumento qui che sto utilizzando, che serve appunto a girare per bene, si assomiglia a un cucchiaio ma è fatto di silicone e va veramente a mantecare che è una meraviglia. Allora c'è Marta che ti fa subito una domanda. Questa crema di ricotta diventerà verde con gli spinaci? No, 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 assolutamente. La lasceremo così bianca, proprio così com'è, con le erbe aromatiche perché non vogliamo andare a dare un sapore in più che potrebbe rovinare l'eleganza della ricotta ma lo spinaci lo andremo a mettere in crema alla base del piatto. Adesso ti faccio vedere come procediamo invece con gli spinaci. Guarda, io ho portato una padella a bollore con dell'acqua, quindi abbiamo gli spinaci verdi, proprio le foglie quelle piccoline che si usano anche per l'insalata, no? E le andremo ad aggiungere, le andremo a mettere nell'acqua e le faremo sbollentare per circa due minuti, non di più, perché sennò poi perdono il colore. Immagino, infatti, questa è una dei suggerimenti che il nostro chef dà anche ai nostri ascoltatori. Dicevo prima che se volete potete anche voi mandare i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è lo 0758 65 97 937. Ed infatti, Andrea, ti stanno ormai ossessionando tutti quanti perché c'è Francesco invece da Liverpool. Per me è un piacere, per me è un piacere. Dice, ma io ho visto questo mandarino lì sul piatto, a che cosa servirà? Guarda, andremo a mettere la scorsa, non è un mandarino ma è un'arancia di Sicilia, te la faccio vedere. Andremo a mettere la scorsa grattugiata al di sopra e andrà a dare quello sprint in più, quella marcia in più che saprà d'Italia, di Sicilia, di sud Italia, proprio quel sapore mediterraneo che darà quel pizzico in più a questa ricetta. Ecco, come potete quindi notare, in questo caso, ascoltaci con gusto, è il vostro show, insomma, ideale se volete fare anche qualcosa di diverso per i vostri partner. Guardate che il nostro Andrea sta mettendo già la crema di ricotta nella sac à poche famosissima. Esattamente, la famosissima sac à poche. Esatto, come ti aiuterà nell'impiattare poi anche la pasta calamarata? Guarda, in questo caso la sac à poche diciamo che è quasi indispensabile, anche se non l'avete a casa potete trovare un'altra soluzione utilizzando un cucchiaio o un cucchiaino da cucina per andare a farcire la vostra pasta calamarata. Però se avete una sac à poche sicuramente è meglio, si spinge tutto sul fondo, in questo modo qui, come sto facendo, e poi si taglia la punta quando siamo pronti. Però per adesso la lasciamo così. Vi consiglio che la ricotta è meglio lasciarla a temperatura ambiente perché sarà molto meglio che averla fredda nel piatto. Poi quando è a temperatura ambiente si sposerà benissimo con la sapidità del prosciutto crudo e con tutti gli altri ingredienti che ci sono nel piatto. Buonissimo. Allora noi continuiamo con le news, mentre Andrea comunque invece continuerà con il suo piatto, poi vedremo l'esito finale di questa pasta calamarata. Io sono curiosa anche di sapere vedere dal vivo come poi verrà impiattato il piatto, perché la cucina è un'arte, un'arte vera e propria e saperlo fare. Poi Andrea è bravissimo perché a parte che ci dà tutti i consigli possibili e immaginabili, tra l'altro vi anticipo che alla fine della nostra puntata, entro questa sera, voi sui nostri social media potrete addirittura guardare e prendere appunti sugli ingredienti che vi servono per fare questa pasta calamarata, perché metteremo oltre le immagini e le foto del piatto finale, metteremo anche la ricetta, quindi con tutti i dettagli e gli ingredienti che vi servono per riprodurre il piatto in casa. Comunque vi dicevo, ritornando un po' alle news anche di Londra, perché molti si chiedono, è vero, adesso tutti quanti parlano di guerra, però il resto perde importanza. No, tutte le cose hanno importanza. E' vero, in media quando accade queste tragedie purtroppo l'occhio è proprio puntato su queste dinamiche, ma noi cerchiamo di dare un quadro più generale di quello che accade anche qui a Londra. Ed infatti, come vi dicevo, sono tanti gli angoli di questa città che si sono adoperati per creare qualcosa di nuovo, di interattivo, per intrattenere il pubblico e per distoglierlo anche da un po' queste tragedie che viviamo tutti i giorni. Ed è per questo che noi siamo andati a Brighton durante il weekend e proprio questa sera vi pubblicheremo un video del nostro London One Tour che vi farà scoprire una Brighton completamente diversa, una giornata veramente bellissima durante il weekend perché c'è stato finalmente il sole. Oggi non si direbbe perché il tempo è tornato ad essere grigio come qui di solito in Inghilterra, ma abbiamo vissuto una giornata veramente bella dove c'era tanta gente unita per le spiagge e che viaggiava per le strade di Brighton e risperava aria di mare. E vi faremo vedere delle chicche di questa città. Allora il nostro Andrea intanto, guardate, lui ha tolto gli spinaci dalla pentola e adesso sta utilizzando che cosa? Il frullatore? Sto utilizzando un frullatore classico dove abbiamo messo all'interno gli spinaci che abbiamo sbollentato per circa due minuti. Andiamo a mettere anche del brodo, del fondo di cottura con la quale abbiamo cotto gli spinaci. Poi l'olio extravergine d'oliva, il sale e il pepe che andranno a dare spinta a questa salsa, molto semplice ma molto genuina e goduriosa. Gli spinaci sono ricchi di principi nutritivi e fanno molto bene al nostro organismo. Quindi facciamo ricette sane, facciamole bene, facciamole col cuore per la famiglia e stupiamo le persone per la quale stiamo cucinando. Vi faccio vedere, poi andiamo a portare il frullatore, comunque lo accentiamo così, lo mettiamo a potenza massima, scusate se farò un po' di rumore, e andiamo a frullare per circa un minuto. Sentite? Guardate, ma è bellissimo. Noi adesso togliamo, magari perché può disturbare il pubblico, il rumore del frullatore, ma potete vedere che direttamente dalla cucina dello chef è come se veramente fossimo in casa e stessimo insieme preparando questo piatto. Allora, mentre il nostro chef sta preparando anche questa crema di spinaci, io mi soffermerei invece su uno studio che London One Radio ha realizzato, proprio per capire ancora più a fondo invece il panorama musicale italiano qui all'estero. Sapete che ormai sono diversi anni che la nostra radio vuole promuovere la musica italiana in Regno Unito. Però ci siamo chiesti, ma quante persone, dato che comunque noi siamo una grande comunità italiana in Regno Unito, ma anche gli inglesi interessati alla nostra lingua, quanti di loro qui in questo paese ascoltano la musica italiana? Noi abbiamo fatto una ricerca in questi ultimi tre mesi in realtà, che continuerà negli anni, perché il nostro obiettivo è proprio capire l'andamento della musica italiana all'estero, se è cambiata, se viene più ascoltata con il tempo e acquisisce un sound più internazionale. Comunque, stando ai nostri dati che abbiamo raccolto finora, sono veramente tante le persone che ascoltano musica italiana a Londra. C'è un particolare interesse, ad esempio, oltre ai maneskin, pensate un po' anche ai vasco rossi. Quindi, veramente sul nostro sito, londonwaradio.com, troverete l'articolo con tutti i dettagli. Non vi voglio svelare più di tanto, perché voglio invitarvi a leggere l'articolo, perché è molto interessante e vi fa capire quanto la musica italiana in realtà incide anche nel panorama musicale britannico. Pensate che tra la top ten list che noi abbiamo elencato all'interno dell'articolo ci sono, oltre ai maneskin, vi dicevo Vasco Rossi, Pino Daniele, pensate, anche Laura Pausini, Eros Ramazzotti e c'è anche Mahmood che presto arriverà a Londra per fare una data. Quindi c'è un particolare interesse verso la musica italiana. Io sarei curiosa invece di scoprire, Andrea, che musica italiana ascolti, stai ascoltando nell'ultimo periodo. C'è una musica in particolare, un'artista? Sì, sì, allora, guarda, io sto ascoltando soprattutto le ultime canzoni di Sanremo, che comunque sono quelle un pochettino che ci hanno bombardato ultimamente nella nostra testa, che abbiamo ascoltato di più. Però io ascolto canzoni soprattutto un pochettino, un po' pop, diciamo, un po' ultimo. Qualcuno direbbe canzoni un po' depressive, no? Invece per me non sono depressive, ma mi ravvivano l'anima. Vedi, c'è una canzone che vorresti, non so, abbinare a questo piatto? Eh, il sapore delle stelle, non lo so, cioè, diciamo che il sapore è un pochettino quello che mi viene meglio, no? Quello di dare il sapore ai piatti e fare cose genuine, no? Vedi? Allora, la salsa è pronta, però, io ho visto già tutto. Sì, allora, ti faccio vedere. Sì. Ti faccio vedere. Guarda, questa qui è la salsa che abbiamo preparato, una consistenza molto soffice, cremosa, diciamo, molto verde, colorata, e andrà a dare quel sapore molto elegante a questa pasta. Poi, andiamo a mettere dell'olio extravergine di oliva, in questo modo qui, come sto facendo. Ne mettiamo un filo, bello, abbondante, che l'olio ci piace. Poi, ti faccio vedere, cara Rosita, andiamo a farci un po' di spazio intanto sul piano di lavoro, così lavoriamo meglio. Poi, andiamo a prendere il prosciutto di Parma, in questo modo qui. Quindi, abbiamo delle fette, delle classicissime fette, lo andiamo a posizionare in padella. Ovviamente, mentre la padella si sta riscaldando, con un po' d'olio. Tipo bacon? E lo facciamo andare così. Esatto, esatto, tipo bacon. E lo facciamo andare in questo modo qui, per un pochino, circa due minuti, così. Comunque, sai che interessante è questa cosa? Nel senso che hai lasciato il grasso del prosciutto. Perché di solito ci sono persone, sai che sono solite togliere il grasso, invece tu l'hai lasciato. Guarda, in questo caso il grasso è una parte molto importante, perché andrà ad aromatizzare ancora di più il nostro prosciutto. Perché adesso, quando diventerà croccante, il grasso che è contenuto nella parte esterna del prosciutto, si scioglierà e tramite la caramelizzazione di Maillard, che è una reazione chimica nella quale i grassi, ovvero gli zuccheri, si caramellizzano, andrà a dare quel colore un pochettino marroncino, classico, diciamo, del bacon, al prosciutto che stiamo preparando, e quella croccandezza in più. Quindi andremo a caramellizzare gli zuccheri presenti nella carne. C'è Laura che ti chiede, ma la pasta dove è andata a finire? Guarda, la pasta sta procedendo la sua cottura. Guarda, la pasta è già pronta, te la faccio vedere. Guarda qui. Allora, la pasta è pronta. Questa qui è una pasta fantastica, perché mantiene la cottura. E poi è buonissima la pasta di Gragnano, la pasta di Garofalo, è veramente eccezionale. Ti faccio vedere, se mi inquadri con la frontale, andiamo a scolare, quindi prendiamo un semplice scolapasta, la scoliamo per bene, ecco qui, e la mettiamo da questa parte, andando spegniamo il nostro fuoco, con il nostro fornello, prendiamo un piatto, la versiamo sul piatto, in questo modo qui, e adesso vi farò vedere come andarla a riempire. Ma guarda, allora, ci sono, guarda, gli ascoltatori che dicono, chissà il profumo, chissà il profumo. Esatto. E ragazzi, magari un giorno ci organizziamo, andiamo tutti a casa di Andrea. Tutti a casa mia, assolutamente, tutti a casa mia. Ci sarà la fila, Andrea, ci sarà la fila, fuori casa tua, e diranno tutti quanti, ma che cosa sta succedendo? Eh, vabbè, è la cucina del nostro chef. Chissà cosa sta preparando lo chef, eh? Bellissimo. Fantastico. Intanto ci sono tantissimi ascoltatori, ad esempio c'è anche Gennaro, ti fa i complimenti, perché... Grazie, Gennaro. Eh, lui ci sta ascoltando da Napoli e dice, in questi momenti di guerra, vedere un programma così fa bene al cuore, ci fa tornare un po' alla normalità. Ecco, quindi... Esattamente, diciamo e mangiamoci un bel piatto di pasta, no? Ci fa stare meglio, ci fa stare più tranquilli e soprattutto ci riembia la pancia. Allora, una domanda invece interessante che vorrei passarti, questa volta dichiara, lei ci sta ascoltando da Birmingham e dice, ok, il passaggio della pasta direttamente sul piatto, ma mi domandavo, perché non la fai risottare? Perché questa pasta invece la andiamo a fare in maniera diversa, la andiamo a riempire come se fossero quasi dei cannelloni, no? Quindi vi faccio vedere, questa pasta qui è perfetta per essere riempita, perché è comunque molto larga, la andremo a farcire con la ricotta alle erbe, poi sulla base metteremo la crema di spinaci, finiremo con delle listarelle di prosciutto crudo e poi ovviamente non vi resta che guardare per scoprire meglio cosa prepareremo, no? Guarda, ti faccio vedere, tutti i rispettatori, vi faccio vedere, questo qui è il prosciutto crudo, vedete, si è caramellato, molto bene, è molto croccante, deve sfrigolare, io come dico io, le padelle devono cantare, quando cantano le padelle, allora ci siamo, siamo perfetti e stiamo facendo la cosa giusta. Allora cosa facciamo? Prendiamo un panno carta e le andiamo ad adagiare al di sopra, perché sia abbiamo aggiunto del grasso e l'olio extravergine di oliva, poi il prosciutto condiene anche lui del grasso, quindi lo andiamo ad asciugare per rimuovere la parte in eccesso. Poi, mentre è ancora caldo, una cosa molto importante da fare, lo dobbiamo andare a tagliare, perché se non lo tagliamo quanto è caldo, rischiamo che poi non si tagli più bene, no? Sapete, ci sono molte cose in cucina che vanno tagliate solamente quando sono calde. Andiamo a fare delle striscioline, state attenti ovviamente a non bruciarvi, io ormai devo dire che ho le mani di acciaio, quindi dopo tutti gli anni in cucina mi sono bruciato così tante volte che ormai non sento più il calore. e andiamo a fare delle striscioline di prosciutto crudo di Parma, molto croccante, che andrà a dare quella croccandezza, ma anche quella sapidità al piatto, che lo renderà unico, particolare e ci farà emozionare. Allora, Andrea, qui le domande continuano a go-go, c'è Mariano in questo caso, lui da Londra, a parte che dice Andrea, complimenti per i piatti che ci stai mostrando anche questo pomeriggio. Una domanda per Andrea, io amo le cose fritte, io amo friggere, mia moglie invece mi uccide perché odia la frittura. Come posso sgrassare le pentole, quelle dove di solito si frigge, antiaderenti, senza rovinare questa pentola? Allora, innanzitutto bisogna mettere dell'acqua all'interno della pentola, poi metterla sul fuoco e portarla a bollore. Quando raggiunge il bollore, la togliamo dal fuoco, prendiamo un sapone per i piatti e chiudiamo con il coperchio, quindi la chiudiamo la pentola perché non vogliamo respirare ovviamente il sapone che evapora. Con il calore, il grasso si stacca dalla pentola senza rovinarlo. Allora, la pasta è pronta, quindi come la farciamo? Allora, adesso vi faccio vedere la nostra pasta, sta qui sul piatto, ma non è il piatto sulla quale andremo ad impiattare, ma è un piatto che stiamo utilizzando un po' come un vassoio, dove andremo a riempire la nostra pasta calamarata dell'azienda Garofalo. Allora, vi faccio vedere, prendiamo il sac a poche e andiamo a riempire la pasta così, in questo modo qui, facendo salire la cima al di sopra. Voi immagino che potete mettere anche la famosa salsa di spinaci, vero Andrea? Esattamente, adesso procediamo con l'impiattamento, iniziamo a mettere delle cucchiaiate proprio di salsa di spinaci alla base del piatto, come i veri chef andiamo a sbattere sul fondo del piatto per allargare la nostra salsa, in questo modo qui. Ecco, ci siamo. Poi andiamo a prendere una spatola, andiamo a prendere la pasta e la posizioniamo nel piatto, in questo modo qui. Non dimentichiamoci delle listarelle di prosciutto crudo che abbiamo abbrustolito poi nella nostra pentola, che andremo a decorare con quelle poi sul piatto direttamente. E andranno a dare anche quella sapidità in più che rendono questo piatto veramente, ma veramente buono ed eccezionale da mangiare. Ovviamente ti dico, quando vai a beccare il prosciutto crudo croccante, mentre mangi questa pasta è veramente un'emozione, perché comunque la pasta mantiene una cottura al dente e quando ti ritrovi nel morso qualcosa di croccante così, di cremoso, ti emozioni veramente e dici wow, proprio proprio buono, eccezionale. Un commento anche da parte di ancora Francesca, in questo caso da Birmingham, anche lei, dice ma dove posso prendere quelle pinze che stai utilizzando? Guarda, queste qui si trovano in tutti gli shop di cucina, basta andare anche in un supermercato, probabilmente le potete trovare. Sono delle semplicissime pinze da chef che utilizziamo in cucina per impiattare, per decorare i piatti. Allora, vediamo il piatto finale. Il piatto è quasi finito, andiamo ad aggiungere i nostri odori di Sud Italia, quindi andiamo ad aggiungere la scorsa di arancia che va a dare veramente quel tocco in più a questa ricetta. Utilizziamo una grattugia, molto semplicemente, attenzione a non grattare la parte bianca, perché è la parte amara dell'arancia in tutti gli agrumi, anche del limone. Se grattiamo la parte bianca che si trova all'interno, ci ritroveremo l'amaro nel piatto. Adesso ti faccio vedere il piatto, il nostro piatto è finito, fantastico, super profumato e delizioso. Bravissimo! Comunque, questo grazie a Pasta Garofalo. Grazie mille a Pasta Garofalo, perché è un'azienda di qualità. In Italia veramente racconta il made in Italy nel mondo con la sua pasta di altissima qualità, che viene prodotta a Garniano, una città dove la pasta è veramente tradizione, cultura e amore. Grazie ai suoi prodotti si mangia veramente bene in tutto il mondo. Bene, allora noi ci diamo appuntamento Andrea per il prossimo lunedì, sempre alle ore 16. Assolutamente sì, ci vediamo il prossimo lunedì. Non vediamo l'ora di scoprire che cosa ci preparerai il prossimo lunedì alle ore 16 con Ascoltaci con Gusto. Ciao Rosita! Ciao Andrea! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!